Taccuini, esperienze del fare inchiesta indipendente, domenica 22 alle ore 16, rammemorare ancora, il cammino della scuola Leogrande e infine martedì 24 alle 17 e 30 leggere Alessandro Leogrande. Ora eccoci qui, siamo con Flavio Albano che è uno dei due autori del libro La Tornanza insieme ad Antonio Prota e Flavio proviene diciamo dal mondo accademico in parte nell'ambito dell'economia e oggi è un imprenditore. Questo libro che adesso insomma inizieremo un po' a raccontare è un libro che appunto parla di questo movimento del tornare, il movimento di chi dopo aver trascorso un periodo all'estero o comunque in un'altra parte d'Italia a un certo punto sente un richiamo, sente un desiderio ma soprattutto porta con sé una visione e decide di tornare e questo ritorno chiaramente è un ritorno che porta dentro di sé una complessità, non è mai un ritorno semplice. Però ecco chiediamo a Flavio un po' di raccontarci innanzitutto qual è la genesi, cioè come nasce questa storia. Buonasera, grazie, grazie per l'introduzione, grazie per l'invito in questa cornice meravigliosa. Diciamo che questo libro ad oggi è una teoria che abbiamo provato a raccontare, a mettere su carta e un libro che in realtà ne segue altri tre precedenti che a loro volta erano delle teorie. Parto subito con l'inquadrare in un certo senso quelle che sono le caratteristiche centrali del testo che potrebbe molto spesso essere inquadrato in una tematica sociologica, ma che in realtà per come l'abbiamo intesa noi, per come l'abbiamo affrontata noi ha un aspetto più economico. Il nostro occhio, il nostro punto di vista è un po' quello, veniamo dagli studi diciamo economici, dalla ricerca economica, quindi è un testo che porta al suo interno un'attenzione particolare alle fonti, alle note, ai numeri nel sostenere alcune tesi e viaggia su due binari, su due assi centrali che sono la tematica del viaggio e dell'innovazione. Siamo sempre stati molto legati alla tematica dell'innovazione tecnologica come spinta per la crescita economica dei territori. In quest'ultimo periodo siamo, e con quest'ultimo periodo intendo gli ultimi 15 anni forse, siamo stati interessati dal fenomeno delle start-up. La Puglia stessa è diventata un grande polo d'attrazione e di innesco sulla tematica delle start-up e ci siamo sempre avvicinati con attenzione e con curiosità alla tematica, alcune le abbiamo seguite e abbiamo avuto la fortuna di partecipare a tre viaggi legati alla conoscenza di alcuni degli ecosistemi dell'innovazione più importanti al mondo che sono New York, San Francisco e Dubai per tempi piuttosto lunghi, circa due mesi per ogni destinazione in un lasso di tempo piuttosto ampio, da prima del Covid a dopo il Covid. Abbiamo avuto anche la fortuna di vedere quelle valle prima del Covid e anche dopo. Quei lavori che abbiamo fatto intervistando tanti protagonisti dell'innovazione tecnologica, per esempio a New York il DIN dell'NYU che è una delle più importanti università presenti a New York, così il responsabile di ERA che è uno dei più importanti incubatori di New York, nella Silicon Valley invece siamo stati a Innovit, insomma abbiamo conosciuto tante persone interessanti e abbiamo colto l'occasione per intervistarle queste persone, per capire anche cosa potesse essere adattabile di quel sistema economico, di quella genesi tecnologica nei nostri ecosistemi, nelle nostre latitudini, perché è un dato che anche tanti italiani hanno contribuito prima con la Olivetti a fondare e a fare in modo che la Silicon Valley diventasse quella che è oggi. Quindi vogliamo capire se c'erano ancora dei dati a supporto, se effettivamente era ancora così oppure era ormai una coda di quello che era successo tanti anni fa. Durante questa analisi, queste interviste, abbiamo incontrato tanti italiani che vivono là e sebbene fossero stati davvero stimolanti come discussioni, poi alla fine il discorso inevitabilmente, puntualmente ricadeva sul loro progetto di rientro in Italia. Quindi ci siamo anche accorti, in tutte e tre queste grandi città, forse a Dubai un po' meno perché ha chiamato meno italiani legati al settore dell'imprenditoria digitale. In tutte queste città c'erano tanti italiani di successo, di grande successo, che avevano fatto scalate incredibili, docenti universitari, tutti progettavano il rientro e sentivano il richiamo, il magnetismo della terra natia. Ora questo non vuole essere neanche, diciamo, non è così banale, nel senso non è semplicemente un richiamo affettivo, ma quello che abbiamo colto e letto è che loro intravedevano delle nuove opportunità nei loro territori di origine. E lì chiaramente abbiamo incontrato, diciamo, italiani che provenivano da tante parti del mondo, scusate, da tante parti d'Italia, quindi non assolutamente solo legati alla Puglia, infatti è un testo che non è assolutamente un ragionamento nord-sud, non è assolutamente un ragionamento, diciamo, localizzato, ma in realtà parliamo più dei sud del mondo, tantissime storie ci arrivano dal Lazio, dalla Liguria, dalla Lombardia, perché si è sempre emigrato, dal 1861 a oggi abbiamo perso circa 30 milioni di italiani che sono chiaramente andati via e quindi l'emigrazione e lo spostamento ha interessato tutti i territori, tutte le latitudini e abbiamo italiani un po' ovunque, ma come tanti altri territori. Quello che ci è parso interessante è come questo movimento di rientro che in parte, da quando l'abbiamo notato a quando poi abbiamo scritto il testo, molti lo hanno messo in pratica, quindi ai nostri occhi iniziava ad avere anche una valenza statistica, cioè nel senso iniziava ad avere un peso rispetto a quello che abbiamo osservato. E quindi questo, questa parte, quindi questa componente più legata a un'analisi che all'interno del testo è palese, cioè prendiamo dei numeri legati alla conformazione, alla nascita dell'innovazione, unita ad altri due aspetti ci ha portato a questo libro. Il secondo aspetto è un'analisi su tutte le maggiori aziende e multinazionali presenti nel mondo, quindi cito Red Bull, Only Planet, Olivetti, Starbucks, Netflix, Nike, tantissime aziende, sono nate, come sicuramente molti di voi sapranno, grazie a un viaggio che il loro fondatore ha fatto in una terra diversa da quella natia. Per un periodo un po' più lungo, questa è una componente importante, non è che sono andati a fare un viaggio ed è nata l'intuizione, stando in quel luogo, esposti a un'altra cultura, esposti al diverso, sono riusciti a interpretare un segnale, o cosa ancora più interessante, sono riusciti a raggiungere un altro punto di vista, per guardare ciò che avevano, e questo interessa davvero in maniera, diciamo, lo dico in maniera, con dati storici e certi, interessa a tutte queste grandi aziende. Quindi anche questo componente ci ha messo accanto un altro tassello, quindi l'esposizione al diverso, ad altre culture, lo stare immersi in un luogo diverso da quello di partenza, con tutte le difficoltà che quel luogo ci porta ad avere, altre lingue, altri sistemi legislativi, se pensiamo al mondo arabo, altri sistemi culturali, religiosi, di concezione uomo-donna, cioè, tutto quel sovraffaticamento e quell'adattamento in realtà sblocca, come se sbloccasse nuovi livelli nella capacità umana, e questo porta a rileggere ciò che nell'infanzia, nel proprio percorso di crescita, era scontato e banale, e quindi si rivedono delle opportunità in maniera differente. Siccome stai raccontando un po' quello che hai visto nei viaggi, e comunque quello che poi gli studi ti hanno anche permesso, tramite interviste, tramite analisi statistiche, di rilevare, c'è una parte, una componente molto umana, che viene raccontata all'interno del libro, che è proprio questo profilo del tornante, cioè il tornante, inteso non come il tornante, ma il tornante, colui che torna, e che è sempre in relazione a qualcuno, cioè chi torna è sempre in relazione a chi è rimasto, a chi resta, a un luogo, a un nucleo familiare, e quindi viene un po' raccontato questo passaggio da una lacerazione iniziale, questo strappo, molto toccante, c'è una storia all'interno del libro in cui racconti i toni, che è una storia forte, mi ci sono anche rivista, essendo una delle tornanti, il non girarsi, il non girarsi indietro per non dover vedere i propri genitori soffrire, piangere, o comunque per non dover sentire la forza di quel distacco. Una volta approdati dall'altra parte, chiaramente c'è tutta questa esperienza che tu racconti, di adattamento, che è un elemento importante anche per la metafora che utilizzate, della natura, quindi poi dell'innesto. Cioè chi torna a un certo punto deve affrontare una serie di sfide, una serie di ostacoli, proprio perché c'è un atteggiamento anche di chiusura verso il nuovo, e accade qualcosa, cioè chi torna non solo ha fatto un viaggio fisico, ma ha fatto anche un viaggio sugli occhi. Quindi ha iniziato a vedere delle cose. Quindi c'è questo momento di incontro fra chi vede e chi ancora non vede. E quindi un po' se vuoi raccontarci di questo innesto. Sì, diciamo, il libro chiude proprio con la teoria dell'innesto, che per noi è, diciamo, la componente un po' appunto che prova a racchiudere, a fare sintesi, e a dare una lettura, una lettura che porta a rivedere un'adattabilità nei vari territori. Abbiamo cercato di fare sintesi e chiaramente l'innesto, il rientro di chi è stato fuori, chi ha visto altre culture, ma è innesto anche in un senso abbastanza ampio. Oggi stiamo anche vedendo, specialmente in Puglia, come anche gli arrivanti, chiamiamoli così, chi in realtà non tornano in un luogo, ma ci arrivano, con un occhio diverso, sono in grado di valorizzarne una parte culturale. questo in Puglia, ormai, diciamo, è all'ordine del giorno, stiamo mappando tante storie di arrivo, e nell'integrazione, e quindi è questo il punto, dove c'è il vantaggio economico, dove c'è il valore, il valore aggiunto, che questo modello, secondo noi, merita, diciamo, cosa offre a una lettura di comunità, è proprio questo incontro, questo scambio, questo smosi. chi è rimasto ha presidiato, ha tutelato, ha governato le tradizioni, le ha mantenute intatte, ha mantenuti luoghi, li ha tutelati. Chi ritorna è in grado di rileggere quei luoghi, e nell'integrazione è in grado di dargli una nuova veste, una nuova rilettura, è in grado di costruire nuovi lavori, tanta occupazione, nella stragrande maggioranza delle persone che abbiamo intervistato e che ha fatto questo percorso, abbiamo partite IVA, chi torna, torna per darsi da fare, non si torna per stare fermi, chi torna l'ha sognato, l'ha, diciamo, l'ha agognato, l'ha ragionato, lo ha desiderato talmente tanto, perché significa, come dicevamo, rispetto a una componente più umana di questo testo, significa, si parte seguendo due schemi, c'è chi lo fa con grande distacco, soffrendo, c'è chi lo fa per, diciamo, anche con un pizzico di orgoglio in più, e quindi magari tira fuori le unghie, non si guarda indietro, e anche se ha necessità, o sente il bisogno di tornare, non lo fa, per non tradire anche una serie di aspettative, e quindi quando si fa marcia indietro, non lo si fa a cuor leggero, e non lo si può fare, cioè, stando fermi, per questo, questa componente, questo aspetto, ci continua, diciamo, dal punto di vista, dal nostro punto di vista, continua ad avere in serbo una serie di vantaggi, e una serie di possibilità per una serie di comunità, per tante comunità, che oggi stanno affrontando la tematica dello spopolamento, chiaramente, non è un percorso facile, per cinque che torna, ci saranno quindici, che forse non lo fanno, non è assolutamente il semplificare un tema che è estremamente complesso, ma è il nostro punto di vista, dire attenzione, c'è questo fenomeno, c'è questo fenomeno, e ne parliamo oggi perché? Perché ne parliamo oggi? Perché oggi la Puglia non è la Puglia di trent'anni fa, così come la Sicilia di oggi non è la Sicilia anche di dieci anni fa, non per tutti i territori vale lo stesso, quindi non è facile fare per tutti i territori questo ragionamento, questo ragionamento per oggi è possibile anche grazie al Covid, perché tantissime persone hanno colto l'occasione, perché il lavoro è stato ripensato, quindi molti sono rientrati anche continuando a lavorare per grandi aziende in giro per il mondo, e questo non è allo stesso modo un semplificare, però ci sono tante opportunità che si aprono oggi, perché poi sono tornati sempre per una componente legata alla qualità della vita, agli aspetti familiari, quindi sebbene è chiaro che non è facile fare imprese ancora qui, non è facile costruire lavoro così come lo hanno fatto a Londra e New York, però c'è una grande componente legata alla qualità della vita e alle comunità, per cui vale ancora, per cui vale tanto la pena fare questi sforzi per cercare di trovare un connubio. Allo stesso modo però sta cambiando l'approccio al lavoro, da qui si può lavorare per qualsiasi azienda nel mondo e si può fare impresa con le difficoltà del caso, anche questo non è banale e non va banalizzato, non è semplice, non è come farlo a New York, non è come farlo a San Francisco, ma oggi quello che stiamo facendo, continuando in questa attività di indagine è capire, intervistare, parlare con le persone che l'hanno fatto e capire se oggi è fattibile, ne vale la pena quanti hanno fatto marcia indietro. Ad oggi non abbiamo nessuna marcia indietro rispetto ai numeri delle interviste fatte, quindi è chiaro che va tutto soppesato rispetto alle grandezze, ma oggi parliamo di un fenomeno, esatto, questo è il punto, parliamo di un fenomeno che merita attenzione e che devo dire anche dall'apparato politico inizia a suscitare una certa attenzione, la regione Campania ha varato un programma per il rientro dei cervelli, non è entrato ancora nell'operatività, lo Stato qualche anno fa varò un piano per il rientro dei cervelli, con qualche aggiustamento che è fatto in corsa, perché ancora non c'è una ricetta definita, non c'è un modo ben preciso, non ci sono delle leve, all'inizio era solo una detassazione, per esempio i fondi del PNRR hanno agito sulle infrastrutture di alcuni borghi, ma questo non è bastato a dargli una motivazione, non è bastato alle persone per dire ok, vabbè, rientro se c'è la pista ciclabile, banalmente, è chiaro che alcuni effetti non li abbiamo ancora visti, quindi c'è tempo affinché questo avvenga, la regione Puglia ha varato mare a sinistra, che è una misura ad hoc per il rientro dei cervelli, per la tornanza in sé, e stiamo dialogando con tutte le istituzioni proprio perché è un tema estremamente caldo, lo spopolamento è un tema estremamente pericoloso, la Basilicata leggevo a dieci anni ha un orizzonte dello spopolamento al 50%, c'è una regione che potrebbe essere smembrata divisa tra le altre due, quindi è un tema che non ha oggi una soluzione, e che quindi, e neanche può essere ignorato, quello che diciamo è che oggi forse c'è qualcosa di diverso che possiamo vedere. Un altro aspetto che emerge nella vostra scrittura è quella della responsabilità che ha con sé chi torna, a un certo punto voi parlate di leadership, del leader, il leader come qualcuno che in qualche modo deve incarnare dei valori, deve essere qualcuno che sa dove sta andando e che in qualche misura guida anche gli altri e deve riuscire a rendere bella quella strada, no? Noi teniamo conto anche che comunque abbiamo tutta una serie di retoriche e narrative al sud che sono difficili, poi entrando un po' anche nel pratico c'è un po' questa cultura della lamentazione, del fatto che abbiamo meno possibilità degli altri, che è tutto molto più complicato, che è una retorica forte con cui bisogna fare i conti anche, nel momento in cui si va a costruire una proposta. In questo senso voi parlate molto di un approccio anche culturale, non solo economico, cioè c'è un aspetto proprio di entrare in quelle che sono poi le credenze di un territorio, cioè come pensano, come stanno nella realtà, come generano quelle che sono le loro poi vite, attività e scelte e quindi ora magari mi sposto un po' magari dal campo di studi, però diventa interessante capire come poi si tengono insieme, cioè una proposta economica che tenga conto del territorio nella sua identità e nella sua storia. Beh, in realtà questa è un po' quasi la sfida di questo tema, del tema del rientro. Infatti non abbiamo volutamente, abbiamo cercato il più possibile di dargli un peso economico, ma semplicemente perché in tema di sostenibilità che sia sostenibilità ambientale, che sia sostenibilità paesaggistica, sostenibilità dei borghi stessi, perché purtroppo alla fine poi è anche quello, mantenere dei servizi essenziali in un borgo diventa un tema economico per lo Stato, cioè è necessario dare delle fondamenta in un certo senso economiche a questo tema per fare in modo che possa avere un'effettiva possibilità e che la teoria contenuta al suo interno possa essere poi diciamo mantenuta, sostenuta e possa verificarsi. Una sorta di sostenibilità economica vera e propria. allora se questi due aspetti diciamo vanno di pari passo allora è fattibile allora una strada è percorribile allora rientro banalmente faccio diciamo un esempio che ci è capitato al suo interno si ha la possibilità di avere più partite IVA perché per diciamo anche qui più ben tra la statistica per la statistica che abbiamo osservato chi torna torna per darsi da fare perché l'ha sognato e quindi di conseguenza c'è possibilità c'è una più grande possibilità che queste persone possono costruire lavoro possono costruire possono dare lavoro ad altre persone a loro volta ma soprattutto che possano rileggere alcuni beni per esempio oggi parliamo spesso ce lo diciamo centinaia di volte che noi abbiamo un territorio magnifico abbiamo ogni piccolo paese se tu parli con l'abitante di Gravina ti dici no vabbè ma il mio paese è straordinario dovremmo vivere solo di turismo quante volte l'abbiamo sentito dire però di fatti poi non si verifica non si verifica per tutti i territori alcune volte per fortuna perché il turismo oggi ci pone anche di fronte a tante altre tematiche l'over turismo lo stiamo vedendo tanto ormai anche noi e quindi di conseguenza diciamo la valorizzazione anche di ciò che è presente deve passare necessariamente da una diversa lettura e infatti diciamo non voglio dire il limite del restante perché il restante ha un ruolo fondamentale nel presidio nella tutela perché ci crede in quel territorio perché non lo molla però allo stesso modo è necessario chi torna o chi arriva insomma chi ha una differente visione perché può dare un altro punto di vista e può dare una differente vitalità economica a banalizzo a una masseria piuttosto che a un experience o a qualcosa che proviene dalla cultura locale queste differenti o come dicevi tu anche il superare alcuni ostacoli o apparenti tali perché molto spesso chi diciamo affronta il percorso estero diciamo in una favola che un po' molti diciamo credono chi va fuori diciamo va a New York non fa altro che guadagnare soldi non sa dove metterli bisogna però considerare che molto spesso questi luoghi hanno con sé difficoltà enormi rifarsi una vita una posizione sociale in un territorio che magari diciamo anche una differente cultura che possono essere paesi arabi poi entrerò anche con qualche esempio estremamente complicato e quindi in un certo senso è chiaro che qui le cose non sono facili ma ci si sovraespone in alcuni sistemi diciamo in altre parti del mondo e alcune cose possono diventare fattibili abbiamo storie di persone che sono state in Honduras per dire hanno costruito là edificato costruito stabilimenti termali torno in Italia è chiaro che ti fa paura la sovrintendenza ma l'Honduras è il paese con il più alto tasso di omicidi al mondo cioè voglio dire ha difficoltà incredibili piuttosto che ieri abbiamo abbiamo intervistato una tornante dell'ultima ora in un certo senso Angelica Gassi che è una ex manager di Dior è stata tanto tempo 13 anni a Parigi è stata a Stoccolma in Svezia è tornata da qualche anno a Ostuni chiaramente diciamo ha investito nell'aspetto dell'experience legata al turismo in una masseria e il suo articolo è stato bombardato da 1500 commenti di haters impressionanti senza proprio cattivi sotto tanti punti di vista la maggior parte vabbè ma che ci vuole sei diventato milionario e ti compri la masseria sì certo nessuno però gliele ha regalati cioè nel senso che quella azione è frutto di tantissimo sacrificio è frutto di 13 anni passati in tre stati diversi nel ricominciare la propria vita in maniera diversa scalando la componente lavorativa che è frutto di tanti anni di studio quindi è chiaro che è un discorso estremamente complesso dove è difficile trattarlo in maniera così generica ogni storia ha un punto a sé però quella competenza sviluppata così tanto fuori quanto può far bene poi al territorio un ragazzo che abbiamo conosciuto a Casella in Pittari un paesino dal Cilento è stato per tanti anni a Roma un art director in un'agenzia di comunicazione e oggi lo fa a distanza ha iniziato a fare un corso per dei ragazzi del luogo in cui insegna graphic design quei ragazzi in un paese di 400 abitanti non avrebbero mai avuto quegli stimoli con quella diciamo prossimità è questo il punto diciamo è questo che ci convince che possa essere una strada percorribile perché ci può essere un osmosi di competenze quando si riescono poi a relazionare che non è facile come dicevi giustamente all'inizio chi torna e chi resta all'inizio va in scontro perché c'è un'energia diversa c'è un punto di vista diverso anche proprio il ritmo è molto diverso ci si aspetta risposte nell'arco di qualche ora e gli uffici pubblici solitamente non sono famosi per la rapidità delle loro risposte quindi non sono abituati queste cose portano allo scontro vabbè dove sei stato fino ad oggi ritorna piano piano cioè ci sono dei tempi e delle abitudini che si scontrano il punto è sempre nel perseguire il cambiamento diciamo in un certo senso vediamo un modello interessante perché c'è una desiderabilità di alcuni territori possiamo dire che c'è anche una certa tendenza non dico di moda però potrebbe avere anche una certa componente però questo delinea un modello il punto è fare in modo che si continui a perseguire il cambiamento perché ciò che sta accadendo oggi è che di fatto i paesi si spopolano che di fatti c'è uno spostamento economico banalizzo ma non voglio fare ribadisco lo ribadirò sempre non è un discorso sud e nord ma negli ultimi vent'anni 260.000 laureati si sono spostati dal sud dal nord questo non è uno spostamento solo affettivo lo è certamente uno spostamento di competenze che ha tagliato competenze nelle aziende locali e uno spostamento che ha tolto 2,5 miliardi all'anno di ricchezza perché chiaramente c'è il fit c'è tutto un indotto che diciamo prospera e questo è uno spostamento netto di ricchezza da una parte all'altra di una geografia ecco perché inizia ad essere anche un problema politico inizia tutto questo tema inizia ad avere una connotazione degna di nota perché il primo motivo per esempio un altro tema del libro è che uno dei primi motivi forse il principale per cui ci si sposta è la formazione ok perché questo si può arginare si può definire potrà cambiare interroghiamoci cioè nel senso oggi non abbiamo bene delle risposte però se tutto questo avviene perché non ci sono cioè la prima componente è la componente legata alle università parliamone perché è un tema centrale mi fai venire in mente una conversazione che ho avuto l'anno scorso con un docente qui al sud all'università in cui si parlava un po' che cosa potrebbe essere utile per gli studenti e quant'altro lui un ordinario mi ha detto ma noi qui formiamo i ragazzi per andarsene e io gli ho chiesto e quindi qual è il futuro cioè se se ne vanno tutti l'investimento che noi stiamo facendo qui oggi è un investimento a perdere quindi evidentemente nel libro si dice anche che addirittura la scuola può essere un luogo un po' da rivedere quindi da una parte cercando di non preparare delle macchinette che stanno avendo anche una visione un po' distorta della realtà personalmente non l'ho detto all'inizio comunque sono una psicologa mi capita molto spesso di vedere giovani pieni di paure di fobie con proprio dei ritmi molto accelerati che poi di fatto vanno in contrasto con quelle che poi sono le esigenze della vita però nel libro quello che un po' si propone è proprio di provare a creare un collegamento concreto fra i percorsi di formazione e a un certo punto c'è proprio l'espressione università imprenditoriale e esperienziale anche abbiamo detto parliamo di formazione esperienziale perché di fatti in una società che come dici giustamente ci espone al cambiamento costante nulla è così nulla è più fermo le innovazioni tecnologiche cambiano ogni tre mesi c'è CPT è passato un anno cos'è successo nella tecnologia che tra un po' ci camminano i robot opes è cambiato tutto non c'è nulla di statico gli aspetti formativi con grande rispetto del sistema scolastico ma veramente perché ci sono tanti insegnanti che fanno tantissimo e viene riconosciuto anche a livello globale il sistema dei licei italiani è stato quello che ha portato tantissimo sotto i riflettori della Silicon Valley i nostri ingegneri perché la formazione liceale dava quel quid in più per avere un'apertura di vedute tale da poter essere leader nel problem solving in quello che serviva per costruire il mondo tecnologico di oggi quindi l'aspetto formativo ha tanti punti negativi positivi però di fatti è un po' immutato negli ultimi trent'anni in un mondo in cui non c'è più nulla di statico è chiaro quindi che i ragazzi non ritrovano degli stimoli nel fare qualcosa di passivo c'è qualcosa che sicuro oggi non sono un pedagogista non ho la soluzione a questa risposta quello che leggo e che posso diciamo sottolineare è che di certo una lezione frontale potrebbe non essere più la soluzione al momento che stiamo vivendo e soprattutto ci dovremmo anche in questo caso interrogare su questo cioè è ancora il caso di avere questo tipo di approccio ci sono approcci differenti per reggere ma semplicemente perché forse va rinfrescata qualcosa che forse negli ultimi cinquant'anni è rimasta immutata e in un mondo che cambia così velocemente è un po' strano ecco questo è il tema e quindi abbiamo detto abbiamo parlato di formazione esperienziale per fare in modo che sia un po' più evocativa che vada a stimolare alcuni aspetti legati alla curiosità però il tema rispetto alla formazione provocatoriamente noi abbiamo detto va bisognerebbe per attuare tutto questo ragionamento e fare in modo che tutto ciò avvenga probabilmente c'è bisogno di un cambio culturale perché chiaramente in tante famiglie oggi non si dice apri la partita IVA si dice scappa dalla partita IVA ma con con assoluta diciamo naturalezza ma probabilmente non è facile non è la soluzione è la strada più semplice da consigliare al proprio figlio lo comprendo bene però il punto è che la crescita economica diciamo noi siamo anche figli degli anni ottanta di un ecosistema di uno stato che aveva preso una direzione e che diciamo a un certo punto non ha più retto in un certo senso con quell'approccio e di fatti tanti altri stati che avevano puntato sull'autoimprenditoria sull'innovazione tecnologica a un certo punto chiaramente ci hanno sorpassato un po' però chiaramente noi abbiamo mantenuto la nostra motivazione l'Italia è una potenza nell'ambito dell'artigianalità quindi il punto è cercare di essere anche quello di rispettare la propria vocazione per esempio anche rispetto il mezzogiorno ha sempre rincorso un'industrializzazione che forse non era non era non era adatta a questi territori non era adatta a queste latitudini abbiamo sempre vissuto nell'idea di dover essere qualcos'altro senza mai ragionare bene su ciò che era giusto per questi territori senza cercare di di insistere e questa è una cosa che tutti i tornanti dicono che a un certo punto quando stai fuori capisci che le cose te le devi fare cioè se vuoi fare qualcosa se vuoi attuare un cambiamento non lo puoi demandare non lo puoi rinviare non puoi dire bisognerebbe che qualcuno faccia così lo devi fare infatti una diciamo poi il filo rosso di tutto il libro è una riflessione interessante cioè se vogliamo è un salto da un paradigma all'altro dal paradigma del sistemati cioè vai vattene perché così ti sistemi quindi una dimensione molto personale vai dall'altra parte e cerca qualcosa ha un ritorno per sistemare le cose quindi con una dimensione più collettiva dove si ha uno sguardo più allargato una responsabilità in questo senso quindi non mi devo sistemare io ma devo contribuire a sistemare le cose con gli altri e questo salto che poi in realtà in più momenti anche l'aspetto della collaborazione del non pensarsi come imprenditori o aspiranti imprenditori da soli si torna e si cambiano le cose da soli è sempre un movimento con gli altri senza avere una visione ingenua che potrebbe essere quella di pensare che chi è andato via è cambiato e chi è rimasto è rimasto uguale perché non è neanche questo è un costante movimento tanto fra chi resta chi va in fondo tutti quanti anche per venire qui ci siamo mossi quindi come dire il movimento è sempre ma proprio per riprendere la dimensione culturale di diffusione culturale questo vostro studio non si ferma al libro infatti ci sono tante altre cose che state facendo sì perché il punto era e lo ripeterò molto spesso infatti il tema è il cambiamento il tema è perseguire costantemente il cambiamento come attraverso il viaggio attraverso l'esposizione alle altre culture se uno vede e capisce e prova sulla sua pelle alcuni 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 altri concetti alcuni altri modi di fare poi tende a prendere il buono se quel buono lo riportiamo indietro perché vogliamo tornare indietro non perché dobbiamo essere costretti perché ci dobbiamo vedere un valore nel tornare indietro per questo dico ci dobbiamo soffermare di più sul perché tornare e non semplicemente le infrastrutture sono importanti però oggi ci dobbiamo preoccupare anche di dare delle motivazioni affinché abbia senso tornare il punto è che ci siamo volevamo raccontare per creare ispirazione quindi viaggio cambiamento come fai a raccontare di predisposizione al cambiamento come fai a raccontare con rispetto il tema della restanza e della tornanza questo libro l'ultimo aspetto che è portato da questo libro è stato il lavoro del professor Teti che è la restanza è stato di grande stimolo perché chiaramente diciamo raccontava tanto del presidio raccontava tanto dalla tutela dei borghi del valore sociale biologico e sistemico dei borghi la volontà è stata cercare di estendere in un certo senso il punto di vista a qualcosa di più ampio ci siamo l'unica risposta che abbiamo trovato è raccontiamo il cambiamento attraverso dimostrandolo quindi il libro è stato il manifesto culturale in un certo senso quello che doveva traghettare trasportare la teoria il manifesto culturale e la seconda azione che abbiamo messo in campo è un video podcast proprio per dare delle immagini alle persone quindi dare un volto alle persone ai territori che abbiamo individuato perché questa poteva essere semplicemente una teoria se non l'avessimo supportata con dei casi reali quindi abbiamo siamo andati a scovare le storie di rientro lì dove si stanno originando abbiamo incontrato londinesi che sono tornati a Roseto Valfortore siamo stati diciamo in Puglia Campania Calabria Basilicata Lazio diciamo ma non perché non abbiamo trovato storie nelle altre regioni che siamo partiti da cinque mesi quindi non abbiamo avuto ancora materialmente la possibilità ma ci arrivano segnalazioni da ogni parte d'Italia segnalazioni di orgoglio vero rispetto all'azione fatta e il profilo si conferma nel senso sono quasi tutti o attivisti sociali o attivisti economici nel senso hanno fatto impresa o comunque hanno fondato associazioni che operano sul territorio per la crescita perché chi ritorna per esempio la prima cosa che cerca e di cui sente molto la mancanza sono il network tra New York San Francisco Dubai sono grandi capitali che ti abituano dalle 18 e 30 ci sono meet up incontri perché la collaborazione è un vantaggio è un valore economico nel senso lì è esasperato e a un certo punto diciamo sono aperitivi di networking ma sono scambio di bigliettini frenetici diciamo a un certo punto esagerato però il punto è che hanno visto il valore della comunità hanno provato il valore per il loro business di avere una cerchia ampia e quello che cercano di ricomporre appena rientrano è proprio la comunità il networking e questo diciamo continua ad avere un valore e anche storicamente il vantaggio del passaggio da ecosistema a ecosistema diciamo è stato mappato a rari ne ha mappate diciamo ne ha mappata la crescita anche nella storia umana fino alla nascita delle città c'era un'invenzione significativa ogni 10.000 anni dalla nascita degli agglomerati urbani ci erano state 15 grandi invenzioni nell'arco di un singolo slot temporale perché sono le persone che connesse diventano più intelligenti cioè fanno crescere tutto un sistema e la rete che diciamo conserva e rende esponenziali le intuizioni e questo ne ritroviamo riprova in tutte le grandi aziende nascono spesso dai tavoli del bar le più grandi innovazioni il videopodcast è l'azione appunto che affronta tutti i media quindi è presente su tutti i social media è presente su spotify ma anche la componente visiva perché molto spesso parliamo di rientri in territori stupendi in territori in piccoli borghi che hanno tantissimo da raccontare a tante persone che non li conoscono e quindi abbiamo voluto dare peso anche alle immagini e chiaramente oggi siamo vicini a due milioni di visualizzazioni quindi il tema è estremamente centrale estremamente caldo e raccontiamo degli esempi più disparati un'altra delle azioni sono i festival proprio per cercare di ricostruire il network quindi il passaggio successivo è stato che raccontiamo e creiamo ispirazione e ne diamo riprova cosa cercano loro network perfettiamoli il network abbiamo costruito questi festival il secondo in realtà ci sarà domani a Matera a partire dalle ore 16 nella piazza centrale della città dei Sassi in cui costruiamo appunto questo network c'è un momento stile TEDx così tipo speech in cui diciamo ognuno ha cinque minuti per dare la sua ricetta in un certo senso i passaggi successivi sono gli hub e le academy cioè luoghi fisici in cui costruire cioè dare una casa a questi network perché quello che abbiamo visto come è successo già dal covid e col PNRR molti di questi borghi non hanno assolutamente problemi di spazi nel senso sono i borghi che danno le case a un euro e che non hanno sortito effetto sono i borghi che hanno l'ufficio della posta che sta chiudendo non c'è assolutamente una problematica legata agli spazi ma è un problema di animazione sociale e quindi di qui l'idea di creare degli hub il primo in apertura ufficiale è nella certosa di Padula dove abbiamo individuato un nucleo di tornanti che ha creato i monaci digitali da nomadi digitali si sono inventati i monaci digitali perché hanno ripreso loro abbandonando Padula nell'età diciamo dell'università un grande classico sono stati vent'anni fuori dopo hanno rivisto durante il covid hanno riprovato la sensazione del piccolo paese Padula è un borgo di 5.000 abitanti svuotato al 50% nell'arco di dieci anni decimato ma che conserva al suo interno una certosa che è un bene unesco e che è un bene importantissimo a volte anche per alcuni sconosciuto loro all'interno del monastero che era l'hub dell'epoca hanno deciso di costruire un hub tecnologico e noi li stiamo assistendo nella trasformazione e anche nella costruzione di questo meccanismo di comunicazione di comunità e anche le academy che sono quel pezzo legato proprio all'osmosi tra chi rientra arricchito di competenze tutti quei ragazzi sono chi è sviluppatore web tutta gente che ha tantissime competenze e che inizia ad avere un ponte e sta riuscendo a costruire un ponte con quella fascia di adolescenti che invece come prima reazione qua non si fa mai niente non c'è mai niente la prima loro risposta è questa non è vero come è banale dire tornate tutti diciamo e risolleviamo questi territori è banale dire che qua non si fa niente è un meccanismo un po' complesso che necessiterà sicuramente di tempo però c'è una traiettoria ok allora andiamo a chiudere hai citato Vito Teti mi ero segnata una citazione che condivido volentieri tornare non significa solo rioccupare i luoghi ma reinventare il rapporto con essi con i ricordi con la comunità con i ritmi e i tempi del vivere forse l'ultima cosa che ti chiederei per chiudere brevemente è abbiamo parlato tanto dei tornanti i restanti come si devono porre per anche facilitare questo tornare ma collaborando nel senso semplicemente ponendosi in ascolto costruttivo così come dovrebbero fare tutti arrivanti i restanti tornanti e nel dialogo che può essere diciamo scontato anche questo da dire ma non è scontato perché molto spesso l'atteggiamento è di chiusura invece il punto è essere aperti al dialogo e al perseguire il cambiamento ed è questo che ci insegna lo stare in viaggio lo stare fuori che diciamo abbiamo intorno a noi cioè molto spesso siamo convinti del nostro ecosistema delle nostre abitudini invece intorno a noi non c'è nulla di fisso e la storia non ha fatto altro che insegnarci che l'unica costante è il cambiamento se avessero detto a un egizio che i faraoni non sarebbero più esistiti non ci avrebbe non ci avrebbe creduto invece puntualmente la storia ci insegna ad essere aperti ci ha insegnato ad essere ricettivi perché convinzioni ferme non esistono e ribadisco questo l'abbiamo supportato cercando anche di individuare le storie aziendali molto spesso la prima reazione è sempre di chiusura anche la storia di Ryan Ryan è rennata grazie a un'attitudine al cambiamento un'attitudine al perseguire i propri sogni quindi non essendoci una ricetta giusta non posso far altro che dire oggi diciamo sono le rivoluzioni che cambiano il mondo diciamo non tutte sono state tecnologiche ma tutte sono state culturali e il cambio di mentalità che poi porta a cambiare i territori a mutare e a costruire anche l'innovazione quindi un po' perdendo una visione ingenua del cambiamento cioè il cambiamento come minaccia come perdita di qualcosa ma provare proprio a capire sempre con l'idea dell'innesto che cosa si diventa insieme quindi non più legandosi alle tradizioni cioè nel senso credo l'abbia detto Baricco cioè guardando sviluppando il futuro ma guardando a ritroso cioè nel senso dobbiamo sempre avere ben chiaro ciò che è stato però sempre con l'apertura al cambiamento perché tanto è l'unica cosa che ci consentirà poi di 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 crescere e di prosperare e questa è la cosa centrale avere bene in mente le nostre tradizioni la nostra cultura perché nell'artigianato nel vantaggio competitivo dell'azienda manifatturiera italiana tutto quello che noi abbiamo come bagaglio è il valore aggiunto che ci viene riconosciuto all'estero però questo oggi non basta più e soprattutto faccio un passaggio tecnico il nei modelli gestionali aziendali del mondo i principali modelli sono tre anglosassone renano e quindi mondo diciamo Gran Bretagna e Stati Uniti e renano renano nipponico quindi tutto il mondo tedesco e il mondo diciamo del Giappone noi come italiani ci siamo conquistati una terza variante esiste il modello italiano della gestione aziendale che è fortemente centrato sull'individualità dell'imprenditore sull'azienda familiare è chiaro che è stato un grande asse di vantaggio nel nostro posizionamento oggi ma oggi iniziamo anche a credere che potrebbe anche essere la nostra peggior condanna perché comunque non consente e non si caratterizza per essere aperta la collaborazione che in un mondo digitale che ci ha quindi allontanato da quel vantaggio competitivo inizia ad essere un po' complesso se la portiamo avanti così grazie Fabio Albano grazie grazie a voi grazie mille il libro lo troverete alla libreria del festival mi è stato detto di dirvi insomma che lo trovate o comunque potete chiedere anche ai volontari non so se ci sono delle domande altrimenti chiudiamo no ok sì le tradizioni che ci sono fatti fanno il costo costo della non la sapenza della luce lo sarebbero a me no diciamo che in realtà la parte delle tradizioni religiose è l'ossatura del concetto di comunità ed è quello che per certi versi dobbiamo cioè continua a esistere in Italia almeno a queste latitudini e che un po' stiamo perdendo è un concetto un po' più complesso perché subentra anche la questione religiosa però volendomi soffermare la parte dell'agglomerato di comunità che è stata una delle funzioni delle chiese delle parrocchie della religione è una delle cose che purtroppo si sta interrompendo però era un grande aveva un grande peso nella crescita nella connessione delle persone nel dialogo e anche questo credo che sia un tema che da un certo punto di vista attrae perché una grande parte di chi è rientrato infatti molto spesso si rientra anche quando subentra la famiglia o si allarga la famiglia o si sente la nostalgia della famiglia molti ci dicono volevo far crescere i miei figli nell'ambiente in cui sono cresciuto io quindi quello che abbiamo vissuto per quanto riguarda gli aspetti affettivi di comunità diciamo ha avuto un peso continua ad averlo il punto è fare in modo che venga preservato ma io credo che in un certo senso lo tocca nel senso chi rientra cerca anche questo queste dimensioni perché sono quelle che solo dopo capisci che avevano un valore perché ci sono tante fasi nella vita la qualità della vita credo dipenda anche da questo bene grazie di essere stati qui grazie grazie ancora e buona continuazione grazie a tutti